e tanta voglia per tutti ragazzi io sono ferrix e oggi siamo qui come sempre con la top 5 domenicale delle vostre clip quest'oggi edizione speciale perché perché noi siamo al games week quindi vi ricordo che se siete di milano o dintorni oggi ci troverete al games week mi raccomando venite in tantissimi andiamo a vedere la quinta posizione subitissimo di questa settimana quinta posizione ragazzi l'ho inserita io non avevo raggiunto i like minimi comunque abbiamo riki che con diana fa un qualcosa di clamoroso è veramente fiddatissimo quindi non merita posizioni elevatissime però ragazzi guardate sfrutta benissimo sia lo scudo sia lo skillshot di diana e si riesce a fare una quadrupla in tranquillità e scioltezza poi qua c'è agnar che onestamente gli regala questa pentagill però comunque complimenti a riki che con diana fa questa bellissima pentagill in quarta posizione ragazzi abbiamo l'exo e che con la sua deserticola ragazzi fa un qualcosa di clamoroso fa fuori innanzitutto il primo nemico qui da lontanissimo una deserticola ragazzi fa fuori anche il secondo peccato che il terzo non lo faccio fuori in headshot sennò sarebbero stati tre grandissimi headshot in terza posizione ragazzi new entry per quanto riguarda i game c'è crossfire europe e c'è bishop shocks che ci porta una bellissima serie di killer ragazzi questo gioco e non lo conosco moltissimo ho visto che ha riscosso abbastanza successo sulla pagina quindi portatemi altre clip se se l'avete comunque sia bellissima clip ragazzi perché qua ne va fuori veramente tantissimi mi sembra 9 addirittura di averne contato in seconda posizione avete votato la feed di big and blast ragazzi ha fatto 6 kill e va detto però che è in modalità un colpo quindi onestamente non mi trovate propriamente in accordo con questa seconda posizione ma come dire siete voi che comandate questa classifica signori abbiamo il nostro nuovo idolo per questa terza season burly ci manda un'altra clip ragazzi e non ho parole non ho parole cioè già è difficile fare questo salto e fare questo air grab per rimanere qui piantati ma guardate da rallenti come ci arriva là sopra salta fa sponda sul muro quindi non arriva direttamente sul traliccio della luce e poi scende dalla moto fa un air grab incredibile complimentone burly sei veramente un grande bene ragazzi il video finisce qui vi ricordo che qui sotto come sempre troverete il modulo per inviarci tutte le vostre clip che verranno selezionate da me e verranno messe su facebook per essere votate e fare poi ogni domenica questa classifica noi ci vediamo domenica prossima e se passate dopo ci vediamo al games week bello